Ormai è un fatto abbastanza chiaro. La nostra sempre più ampia presenza nel mondo digitale, oltre ad offrire tutta una serie di indubbi vantaggi, porta però con sé anche un certo numero di potenziali pericoli, pericoli che è necessario imparare a conoscere e ai quali è sempre più importante porre una certa attenzione. Dai virus ai malware, dal phishing alle fake news, avere un'idea di quali sono e come funzionano i meccanismi, in questo caso malevoli, del web e di internet è diventata secondo me una parte fondamentale di una buona consapevolezza digitale. Oggi quindi ti vorrei parlare di un tipo di attacco informatico secondo me molto interessante e forse poco conosciuto e anche un po' sottovalutato. Una tecnica che sfrutta degli strumenti di cui bene o male un po' tutti tendiamo a fidarci abbastanza, di cui in pratica non possiamo fare a meno e che spesso utilizziamo in modo quasi automatico. Nell'episodio di oggi quindi parliamo di che cos'è, come funziona e perché funziona il SEO poisoning. Sigla! Benvenuti su Pensieri in Codice, il podcast dove si ragiona da informatici, con Valerio Galano. In due parole, SEO poisoning, che potremmo tradurre come avvelenamento della SEO, è una particolare tecnica di attacco informatico che permette di attirare le vittime in trappola sfruttando i motori di ricerca come Google, Bing, DuckDuckGo e simili. Di per sé, utilizzata singolarmente non è una tecnica poi così pericolosa, ma nella stragrande maggioranza dei casi questa viene impiegata in congiunzione con qualche altro tipo di attacco informatico più dannoso e più pericoloso. Un po' come accade per le email di phishing, riceverle di solito non è un grosso problema, ma seguirne i link e le istruzioni invece potrebbe portare a ben più tristi conseguenze. Nella pratica, con questa tecnica, l'utente viene spinto con l'inganno a compiere delle azioni, azioni che poi lo porteranno a cadere vittima di un qualche tipo di cybercrimine, che a seconda dei casi potrebbe riguardare sottrazione di credenziali o di dati, infezione con virus o ransomware o qualsiasi altro comune tipo di attacco informatico. Il CO poisoning però è già di per sé una tecnica piuttosto interessante, più complessa per dire del phishing, ed ecco perché ho avuto l'idea per questo episodio. Per capire un po' più a fondo però le caratteristiche di questo particolare attacco, è necessario avere ben presenti alcuni concetti, quindi cercando di non correre troppo ora proverò a fare una sorta di panoramica. Innanzitutto, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire come si possa sfruttare per i propri scopi qualcosa di potente e complesso come può essere un motore di ricerca. Dopotutto, se pensiamo ad esempio a Google, immaginiamo un colosso internazionale con risorse pressoché infinite. Come è possibile per un cybercriminale, ma anche per una banda ben organizzata, poter competere con un gigante di tale portata? Beh, tutto inizia dal concetto di SEO. Se prendiamo proprio la definizione della stessa Google, infatti, leggiamo che la SEO è, cito testualmente, l'ottimizzazione per i motori di ricerca, la procedura che massimizza l'efficacia del tuo sito per i motori di ricerca. SEO, infatti, è l'acronimo di Search Engine Optimization ed è, nella pratica, tutto un insieme di azioni, processi e configurazioni che vengono applicate ad un sito da un professionista al fine di plasmarne i contenuti, l'aspetto e i metadati nel modo più congeniale possibile alle indicazioni dei vari motori di ricerca. In questo modo, il sito dovrebbe risultare di maggior valore agli occhi degli algoritmi di ranking dei motori e, di conseguenza, questi dovrebbero avvantaggiarlo mostrandolo in posizioni migliori nei risultati delle ricerche rispetto ai siti meno ottimizzati. Se non hai idea di cosa sia il ranking delle pagine web, sappi che delle basi dell'algoritmo di PageRank abbiamo già parlato qui su Pensieri in Codice e puoi facilmente trovare l'episodio nel feed del podcast. Ma, in generale, il concetto è che chi crea e pubblica un sito web desidera che questo venga visitato e, come ben sappiamo, i motori di ricerca veicolano un'enorme fetta degli utenti del web verso le loro destinazioni. Quindi, ogni creatore di siti cerca, o almeno dovrebbe cercare, di potenziare al massimo la SEO delle proprie creazioni in modo tale da provare ad avvantaggiarle rispetto ai concorrenti. Se, ad esempio, pubblico un sito che vende prodotti di ferramenta, avrò probabilmente molti concorrenti. Apparire prima di loro nei risultati delle ricerche potrebbe darmi un enorme vantaggio competitivo e quindi potrei voler investire molto nella SEO del mio sito. Ma proprio questo stesso meccanismo, che è una cosa positiva ed è fondamentale per restituire agli utenti dei risultati il più possibile utili alle loro ricerche, può essere anche sfruttato per scopi criminali. L'idea, in realtà, di per sé è abbastanza semplice. Si sceglie un obiettivo che può essere un servizio o un prodotto, o in generale un sito che già si sa che registra un certo traffico di utenti e che viene utilizzato per un qualche tipo di scopo rilevante. Solitamente gli obiettivi scelti sono siti di home banking, siti che offrono servizi come caselle email, password manager, file sharing, oppure siti che raccolgono pacchetti software da scaricare ed installare. L'importante è scegliere siti che suscitino un certo interesse, quindi che cubano un certo traffico di utenti, ma che al tempo stesso non siano troppo grandi o troppo famosi, e a breve capiremo il perché. Una volta scelto il sito, poi, ne si sviluppa e pubblica una copia. Questa copia non deve per forza essere completa, basta anche una o poche pagine. L'importante è che, all'apparenza, queste risultino identiche o perlomeno credibili rispetto a quelle del sito originale, anche se poi, in realtà, sono ospitate su di un server di proprietà di un cybercriminale e quindi sono completamente sotto il suo controllo. A questo punto non resta che potenziare il più possibile la SEO di queste pagine finte e, se l'attacco va a buon fine, dopo un certo lasso di tempo, queste inizieranno ad apparire nei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti mescolate assieme alle pagine autentiche del sito originale. La scelta dell'obiettivo, dunque, come dicevamo poco fa, è fondamentale. Scegliere un sito troppo ben posizionato, come potrebbe essere un Paypal o un Amazon, renderebbe quasi impossibile batterlo sul campo della SEO, mentre scegliere un sito che visitano solo in pochi sarebbe magari facile da superare nelle ricerche ma porterebbe volumi di traffico ben più magri e, dato che questo tipo di attacchi si basano più sulla quantità che sulla qualità, tutto il lavoro potrebbe risultare di fatto inutile. In ogni caso, per pompare la SEO di queste pagine finte, si usano essenzialmente due tecniche, che poi altro non sono che i normali metodi di ottimizzazione della SEO solo forzati e stressati in modo artificiale. Innanzitutto, infatti, si utilizzano parole chiave e metadati nascosti all'interno del codice delle varie pagine. Si aggiungono enormi liste di parole che riguardano l'argomento trattato, ma anche termini studiati sulla base della tipologia di utenti che si intende attirare. Non so, nel caso di onbanking, ad esempio, si potrebbe aggiungere banking con la CK o nel caso di file sharing, sharing scritto senza l'H. Molti sicuramente obietteranno che questi sistemi basati su parole chiave nel 2022 sono poco efficaci, ed è vero, ma dobbiamo sempre contestualizzare la situazione e ricordarci bene quali sono gli obiettivi. Banalmente, siamo in presenza di due pagine totalmente identiche, una reale, l'altra falsa. Differenziare anche solo per una parola chiave può essere la discriminante tra quale delle due viene scelta come risultato da uno dei motori di ricerca. E siccome i cybercriminali sono sempre alla ricerca di utenti, diciamo, meno smaliziati, scartare chi scrive correttamente onbanking in favore di chi lo scrive male potrebbe in realtà essere un vantaggio per lo scopo in questione. E poi c'è la seconda tecnica, cioè quella di generare traffico sulle pagine false. Sempre nell'episodio sul PageRank abbiamo già parlato del fatto che il traffico è un importante indicatore della qualità di un sito web, almeno agli occhi di un motore di ricerca. Se infatti un utente fa una ricerca e clicca su di un risultato, questo guadagna valore dal punto di vista dell'indicizzazione. Quindi generare traffico in maniera ovviamente artificiale, sfruttando sistemi automatizzati, bot e simili, è la seconda parte della strategia e contribuisce, assieme alle parole chiave, a infiltrare le pagine finte in mezzo o addirittura in posizione di vantaggio rispetto a quelle vere. Ma ora probabilmente ti starei chiedendo perché fare tutto questo? A che scopo questo sforzo? Dopotutto, piazzare pagine false nei motori di ricerca, come già ti accennavo prima, di per sé non ha tutta questa grande utilità. Ed è vero, a meno che queste pagine non siano state progettate per veicolare un secondo attacco. Se prendiamo l'esempio dell'home banking che facevamo poco fa, tanto per dirne una, una falsa pagina di login o una falsa pagina di richiesta di assistenza potrebbero essere un ottimo modo per fare incetta di password e di dati di utenti ignari. Oppure, una falsa pagina di download di un software sarebbe perfetta per far scaricare ed installare all'utente un virus o un ransomware, magari al posto o addirittura assieme al software che stava cercando. Gli utilizzi del SEO poisoning in realtà possono essere tanti, sta alla scaltrezza del criminale trovare quello più adatto ed efficiente, ma in generale il meccanismo è abbastanza semplice. Un utente è in cerca di qualcosa su di un motore di ricerca, tramite il SEO poisoning lo si attira su una pagina trappola, su questa pagina gli si propone una soluzione al suo problema che in realtà nasconde un furto di dati o un virus di qualche tipo e il gioco è fatto. Spesso poi queste trappole sono anche fatte in modo da permettere effettivamente all'utente di risolvere il problema da cui era partito, o almeno di credere di averlo fatto, e quindi in molti casi questi nemmeno si rende conto di essere stato imbrogliato o infettato. Le false pagine di download, ad esempio, oltre a iniettare un malware, effettuano anche il download del vero software in questione, quindi l'utente crede che tutto sia andato per il meglio, lascia il sito, continua la sua attività e nemmeno sospetta di avere il PC infetto. Oppure le false pagine di assistenza rispondono con un messaggio del tipo la tua richiesta è stata presa in carico e sarà evasa il prima possibile. Come anticipavo nell'introduzione, il SEO poisoning è qualcosa che si tende a sottovalutare, ma il fenomeno esiste da tempo ed è anche in crescita. Ad esempio, risale al mese scorso la notizia dell'identificazione di una batteria di domini malevoli che infettavano gli utenti alla ricerca di software come Zoom, Visual Studio, TeamViewer e altri simili. Il link della notizia lo trovi in descrizione. E il motivo di questa crescita è presto detto. Il SEO poisoning funziona ed è anche relativamente economico da mettere in campo. Una sorta di pesca strascico per gli utenti del web ed è per questo motivo che viene facile il parallelismo con il phishing. E proprio al pari del phishing, che è fatto di quei messaggi che sembrano provenire dalla nostra banca o di quei banner pubblicitari che mostrano scritte lampeggianti del tipo hai vinto un premio, clicca qui per incassare, oppure il disco è pieno, clicca qui per liberare spazio e che quindi giocano molto sul instillare un certo senso di ansia, anche il SEO poisoning si basa su tutta una serie di fattori psicologici. Nel libro Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman, e so che ormai lo cito spesso ma è un libro che mi ha molto colpito e ha influito proprio sul modo in cui io interpreto le persone e il mondo che mi circonda, in questo libro, dicevo, è riportato un esperimento riguardante il comportamento delle persone quando utilizzano i motori di ricerca. Ora, non ricordo proprio tutti i dettagli, ma il concetto era che a vari gruppi di persone veniva dato un motore di ricerca costruito ad hoc, nel quale la posizione dei risultati delle ricerche era leggermente diversa in base al gruppo di appartenenza. Nello specifico, i soggetti dovevano informarsi su alcuni candidati ad una carica, per i quali poi avrebbero dovuto esprimere un voto. Ai soggetti venivano dati i nomi dei candidati, e gli veniva chiesto di usare questo speciale motore di ricerca per informarsi. Ovviamente però loro non erano a conoscenza del fatto che, a seconda dei gruppi nei quali erano stati collocati, per la stessa ricerca il motore avrebbe dato risultati ordinati diversamente. E questo esperimento ha dimostrato che, pur essendo le informazioni consultabili nel complesso perfettamente identiche, il fatto che, per alcuni candidati, le pagine apparissero concentrate nella parte alta dei risultati, ne ha chiaramente favorito la reputazione. Insomma, pur potendo leggere tutte le stesse pagine web, gli utenti tendevano a votare il candidato le cui pagine apparivano per prime nei risultati. E questo vuol dire semplicemente una cosa, cioè che le nostre scelte vengono influenzate dal modo in cui ci vengono presentati i risultati delle ricerche. E soprattutto che, consciamente o inconsciamente, noi siamo portati a riporre una grande fiducia nei motori di ricerca che utilizziamo. In poche parole, almeno di primo acchito, il nostro cervello in automatico fa una sorta di ragionamento del genere, se il risultato è mostrato per primo, allora è sicuramente più attinente alla mia ricerca, il più valido, il più valevole di attenzione. A questo fatto va aggiunto poi che, come esseri umani, se siamo un po' stanchi o un po' di fretta, un vero e proprio controllo, quindi con il bisogno di porre attenzione a quello che stiamo facendo, lo facciamo scattare solo nel momento in cui ci accorgiamo che qualcosa non va. Ma, se non sospettiamo di nulla, può capitare che completiamo intere operazioni totalmente con il pilota automatico. Questo è un altro fatto confermato dagli studi di Kahneman. Se ti interessa, trovi il link in descrizione. Quindi, se stiamo cercando un software da installare perché ci serve per un lavoro che dobbiamo consegnare, o per provare un'idea che abbiamo in mente, o per una call a cui dobbiamo partecipare tra 5 minuti, le nostre difese mentali saranno molto basse e il rischio di cadere in una trappola di SEO poisoning sarà più che concreto. Pensaci, quante volte capita anche a te di muoverti in automatico sul motore di ricerca? A me capita. Mi serve una cosa, clicco su Firefox, scrivo due parole nella barra, invio, clicco sul primo risultato. Se questo fosse un sito falso, a questo punto ancora non me ne sarei accorto. In tutto questo discorso, i motori di ricerca hanno dei meccanismi con i quali cercano di mitigare il problema del SEO poisoning, ma chiaramente, se siamo qui a parlarne, in qualche modo questi non sono sufficienti. Senza poi contare che, nel mondo della cybersicurezza, il gioco è sempre un po' quello della rincorsa tra chi individua nuovi modi per commettere crimini e chi invece studia soluzioni per evitarli. Questo è un po' ovvio. Quindi, noi dobbiamo metterci un po' del nostro per evitare di finire nella rete di qualche cybercriminale, anche perché, poi le conseguenze possono essere ben poco piacevoli, dalla necessità di reinstallare PC, server e sistemi vari, fino al rischio di dover bloccare carte di credito o addirittura a conti in banca, senza contare poi che, se non ci rendiamo conto di essere caduti in trappola, beh, rischiamo anche di perdere dati o addirittura soldi. Innanzitutto, quindi, è sempre buona norma, ma questo in generale, avere un antivirus attivo e funzionante e aggiornare tutti i software con la maggior frequenza possibile e non parlo solo del sistema operativo, ma anche ad esempio dei browser. Poi, dobbiamo entrare nell'ottica di non poterci fidare sempre ciecamente dei motori di ricerca e questo non perché questi siano malvagi, questo è un altro discorso, ma perché semplicemente non sono sicuri al 100%, niente è sicuro al 100%. Quindi, quando facciamo una ricerca, prendiamo un bel respiro, ci fermiamo un attimo a guardare la pagina dei risultati, leggiamo quello che c'è scritto, invece di associare vagamente una forma sullo schermo all'informazione che stiamo cercando e, soprattutto, facciamo attenzione all'indirizzo del sito sul quale stiamo per cliccare. Bene o male, infatti, qualsiasi motore nei risultati sopra il titolo di ogni pagina mostra in piccolo l'indirizzo di destinazione, cioè quello a cui ci si collegherà se si decide di cliccare sul risultato. Questo indirizzo è molto di aiuto per individuare possibili SEO poisoning e questo perché, mentre è possibile copiare delle pagine o un intero sito abbastanza semplicemente, è invece molto più difficile impossessarsi di un dominio o anche solo trovare domini che siano sufficientemente simili a quello originale. Per fare un esempio reale, che trovi anche nell'articolo in descrizione, se cerchiamo il software di videoconferenza Zoom, perché abbiamo bisogno di installarlo per un meeting e sul risultato vediamo che l'indirizzo punta a zoomvideo-s.com dobbiamo insospettirci perché se il software si chiama Zoom la prima cosa che dobbiamo aspettarci è che quantomeno il sito abbia un nome più simile. Magari in questo modo avremo un po' di falsi positivi ma è sempre meglio un po' di prudenza in più che rischiare problemi. Poi, in caso, ci sono sistemi più avanzati che si possono utilizzare come firewall, proxy, sandbox e cose del genere ma direi che non è questa la sede giusta per parlarne. Sono queste soluzioni che richiedono una certa dimestichezza e se non sei già in grado di configurarle in autonomia credo sia meglio rivolgersi ad un esperto nel caso in cui tu ne abbia bisogno magari per il tuo ufficio o la tua azienda puoi anche contattarmi sul sito pensierincodice.it non me ne occupo personalmente ma posso metterti in contatto con qualcuno dei miei collaboratori. Ad ogni modo, però, io penso sempre che il miglior sistema per tenersi fuori dai guai quando si naviga sul web sia quello di porre attenzione a quello che si sta facendo non visitare siti sconosciuti fare attenzione agli indirizzi tenere al sicuro le password in un password manager criptato non utilizzare reti wifi aperte o reti delle quali non ci possiamo fidare e se proprio siamo costretti allora farlo tramite una VPN come potrebbe essere quella di Proton di cui ti ho parlato nello scorso episodio di Espresso. Insomma, i pericoli online ci sono questo è vero però, alla fine per stare ragionevolmente sicuri secondo me quello che basta è un po' di conoscenza e soprattutto usare la testa sempre bene l'episodio di oggi dunque termina qui come al solito spero di averti portato qualche informazione e qualche riflessione interessante ti ricordo che se posso produrre questi contenuti è solo grazie a te che li ascolti e dalla community di Pensieri in Codice che sostiene il progetto scopri anche tu come dare una mano sul sito pensierincodice.it puoi ascoltare tutti gli episodi sulle maggiori piattaforme e app di podcast oppure ricevere direttamente un link sul tuo smartphone iscrivendoti al canale telegram che trovi sul sito se Pensieri in Codice ti piace e se sei arrivato fin qui immagino ti piaccia potresti sostenerlo anche lasciando una recensione nell'app con cui ascolti il podcast e poi potresti condividerlo con un amico per farglielo conoscere così facendo mi aiuterai a far crescere il progetto a migliorarne la qualità e farai scoprire a lui qualcosa di interessante detto questo per oggi è proprio tutto io ti ringrazio per aver ascoltato fin qui ti do appuntamento al prossimo episodio e ti ricordo che un informatico risolve problemi a volte anche usando il computer di aver guardato conoscere di aver guardato l'anima il computer Grazie.